Nell'era 2.0 in cui i nativi digitali maneggiano con naturalezza ogni strumento innovativo, ci sono a Gela molti giovanissimi che frequentano la terza media e che in questi mesi dovranno scegliere come continuare il loro percorso formativo che decidono di frequentare corsi zero di Greco Antico organizzati dal liceo classico Eschiro di Gela, diretto da Gioacchino Pellitteri. Quest'anno per la prima volta abbiamo attivato i corsi zero per le conoscenze di base di Greco Antico con i quali ci proponiamo di divulgare presso i giovani delle scuole secondarie di primo grado la conoscenza della lingua greca, non come fine ma come mezzo per accedere alla conoscenza delle nostre origini e delle origini della cultura occidentale. Noi speravamo in un riscontro positivo ma in realtà abbiamo avuto un apprezzamento al di sopra delle nostre aspettative perché abbiamo già cinque corsi, cinque classi formate che attualmente appunto frequentano questa attività che si propone di insegnare, di dare una conoscenza di base attraverso metodi dinamici e naturali del Greco Antico. I ragazzi hanno subito manifestato grande interesse tant'è che questi giovani che stasera sono qua hanno espressamente richiesto, hanno espresso il loro desiderio loro stessi appunto di partecipare e di fare quest'altra lezione prima delle vacanze e poi appunto proseguiremo con altre lezioni a gennaio sia mie sia di altri quattro docenti del liceo classico. Io ho scelto di fare questa esperienza proprio perché mi aveva incuriosito e quando diciamo ci hanno presentato questi volantini io subito mi sono incuriosita e appena poi ho incominciato a frequentare ho capito che è stata un'esperienza veramente molto bella perché l'ho frequentata anche perché volevo conoscere diciamo l'ambiente delle superiori e anche i professori, il modo di approcciarsi con gli alunni e questo corso è veramente molto istruttivo e lo consiglio a tutti. Il corso ha la durata di dieci ore e rappresenta un primo approccio al greco antico in cui si spiegano i primi elementi sul senso della lingua e della cultura greca. E' andato in scena ieri al teatro Eschiro di Gela il gran concerto di Natale denominato Il mondo che vorrei su iniziativa della FARC coordinata a Gela d'Angela Lobello in collaborazione con i giovani dell'oratorio salesiano. L'evento culturale è stata preziosa occasione di socializzazione dedicata ai malati oncologici e alle loro famiglie per vivere insieme la magia natalizia. Questa appunto è la FARC, l'associazione di volontariato che opera in oncologia. Questo è il quarto anno che noi facciamo uno spettacolo di Natale per augurare un buon Natale ai tutti i pazienti oncologici e anche allo staff di oncologia per il lavoro grande che facciamo assieme perché ormai da un po' di anni siamo una squadra e diciamo anche una squadra vincente perché oggi a Gela veramente si può parlare di tumore, si può parlare di cultura e questa è una delle grandi dimostrazioni che comunque qualcosa di concreto si fa. Si potranno ottenere le indulgenze giubilari anche all'interno delle carceri nell'occasione di questo straordinario e rivoluzionario giubileo della misericordia. E con la misericordia infinita del Signore questa mattina il Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, ha aperto la porta santa della casa circondariale di Contrada Balate. Queste porte di misericordia, così come ha voluto il Papa nell'anno del giubileo proprio dedicato alla misericordia, bisogna effettivamente che vengano aperte in contesti dove la misericordia si esprime in un modo molto eclatante, vistoso e qui proprio come anche negli ospedali o in quei contesti dove si vive una condizione di bisogno, la porta santa, la porta della misericordia diventa davvero questa porta che se attraversata noi non solo acquisiamo quelle indulgenze ma addirittura esprimiamo quello che il Signore vorrebbe da noi. Non voglio sacrificio d'olocausti ma voglio amore, conoscenza, misericordia ed è quello che effettivamente vogliamo fare in questa occasione. D'altra parte io sono dell'avviso che la porta santa non è una porta in se stessa. Gesù già lo dice nel Vangelo io sono la porta per cui dato che in Gesù noi riscontriamo, conosciamo i piccoli, tutto quello che avete fatto a uno di questi piccoli l'avete fatto a me, allora io capisco che se Gesù è la porta lo sono soprattutto i piccoli, i bisognosi, i malati, i carcerati e vi è dicendo loro sono le porte sante. Quindi non una porta nel senso fisico ma nella metafora biblica sono le persone, le esistenze, i vissuti di quanti vivono un bisogno che nella misura in cui vengono accolti, vengono aiutati, vengono sostenuti noi attraversiamo la porta santa. È un momento di speranza, è un momento di comunione per tutti noi sia i detenuti che vivono questo loro momento di rigidità e di sicurezza e di ovviamente sconto della loro pena per quello che hanno fatto sia per tutto il personale che è comunque impegnato nella garanzia della sicurezza e nel rispetto della dignità della persona. La maggior ragione è in questo momento storico in cui siamo tutti prese dalla frenesia di questi giorni e soprattutto forse coinvolti in quello che sta accadendo sia da un punto di vista dei fenomeni migratori sia da un punto di vista dei fenomeni della devianza. Si sono presentati alla Santa Messa Natalizia e hanno significamente preso posto tra le ultime file. Sono i nove ormai ex lavoratori della clinica Santa Barbara di Gela che rivendicano a gran voce la loro occupazione. Il sindacato sta facendo quello che è nelle proprie possibilità. Intanto è stato audito dalla sesta commissione e in sesta commissione Cigelle e Cisle con i lavoratori presenti ritengono di avere ottenuto un buon risultato, cioè lo spiraglio per riaprire questa trattativa in quanto davanti al Presidente Onorevole Di Giacomo anche l'imprenditore di questa clinica privata si è impegnato a trovare una soluzione perché la cosa potesse tornare indietro, perché questi lavoratori potessero tornare al loro posto di lavoro. Noi oggi siamo qui e siamo venuti a messa come tutti gli altri lavoratori perché ci riteniamo ancora lavoratori di questa clinica. però se lei ha visto ci siamo messi tra gli ultimi perché noi riteniamo di essere tra gli ultimi e il Cristo ha avuto sempre un occhio particolare per gli ultimi e noi a lui ci rivolgiamo. Sicuramente ha avuto un occhio particolare per gli ultimi e non per i primi. Tra i primi c'erano gli imbrenditori, sono gli imbrenditori che debbono fare un passo avanti verso questi lavoratori, verso queste nuove famiglie che sono rimaste fuori, che sono in mezzo a una strada. Ma non esimiamo da questo il sindaco di Gela, il nuovo sindaco di Gela a cui dobbiamo dare merito e atto che era con noi in zesta commissione ma che dopo di che non l'abbiamo più visto. E al governatore che è cittadino di questa città. Infatti chiediamo al sindaco, al governatore e al presidente di questa clinica Santa Barbara di riunirci anche durante le feste. Noi siamo pronti a venire qui anche per Natale, per Santo Stefano, per il 27, per il 28, per concludere questa vicenda che non può concludersi con il licenziamento di 9 padri di famiglia che da 30 anni svolgono la loro attività presso questo ende e vengono sostituiti da una società terza. Parla al Femminile, la mostra che è stata allestita al Museo Archeologico Regionale su iniziativa del Sor Optimist Club di Gela, presieduto da Maria Grazia Falconeri e curata dall'archeologo Angelo Mondo. Infinitamente donna racconta lo status della donna nell'antica Grecia. Sono stati esposti reperti archeologici esclusivamente al Femminile, monili e statue catalogate dall'archeologo Gelese. Abbiamo pensato di organizzare questa mostra insieme al museo, il direttore e l'archeologo Angelo Mondo per valorizzare ancora di più la figura della donna, partendo proprio dall'antica Grecia, dalla Grecia arcaica, poi la Grecia classica e la Grecia ellenistica. Il fine appunto è quello di mettere sempre in evidenza e luce la donna, la donna che rimane appunto sempre tale, vogliamo che sia sempre al centro, al centro della società. Ho iniziato la descrizione anche del Forex con una frase che è veramente agghiacciante. teniamo le docce, teniamo le etere, quindi le prostitute per il piacere della carne, le congubine per il piacere del nostro corpo e le mogli per la procreazione, quindi la cura della casa e del corredo. Quindi già tutto questo racchiude il senso della donna. C'è da dire una cosa, tutte le personalità che hanno scritto sulla donna erano solamente uomini, e quindi è chiaro che il punto di vista era solamente unilaterale. Però abbiamo protagonisti nel mondo antico di donne che hanno avuto un loro peso nella storia, da Spazia, la compagna di Pericle, Ipazia, una grande scienziata dell'età ellenistica, e Saffo nella letteratura. Però in un certo qual modo tutti erano però rivolte a colpire un uomo in virtù della donna che frequentava. La figura della donna nell'antica Grecia è un po' diversa da come viene raccontata, perché è vero che la donna era fuori dai dibattiti politici, non aveva il voto, eccetera, però era molto presente. Lo era presente in tutte le scene che noi vediamo raffigurate dentro il museo. È possibile ipotizzare che agisse dietro le quinte, che dietro un grande eroe ci fosse sempre una grande donna che invece decideva per lui? Probabilmente, penso per esempio, raffigurare Atena, la dea per Antonomasia, che nasce dal cervello, dalla mente di Giove, ha un valore non solo simbolico, ma c'è un riconoscimento alla donna che ha una ragione. L'incanto della voce bianca dei bambini, canti natalizi e un clima di feste e condivisione è accaduta alla chiesa Sant'Antonio a Gela in occasione del concerto tenuto dagli scolari della Luigi Capuana, diretta da Concetta Mongelli. Lavoro in continuità, anche continuità didattica, verticale, ma anche in continuità orizzontale. La parrocchia è un'agenzia educativa che lavora insieme alla scuola e qual è il momento migliore per lavorare insieme e quindi nei locali della parrocchia insieme al parroco Michele Mattina. Questa sera i bambini di classe quinta passano il testimone ai bimbi vicini di 5 anni e stanno lavorando insieme in coreografie anche parecchio complicate e molto stimolanti per conoscersi, perché i grandi possono anche aiutare i piccoli nei movimenti, in tutto ciò che ne devono dire, ma anche perché i piccoli possono conoscere direttamente con delle attività pratiche i futuri docenti delle classi prime. Credo che in questa occasione vale quello che dovrebbe essere uno stile di vita per tutti, non solo per i credenti. Il coraggio di saper condividere. In questo momento, al di là della possibilità di trovare una soluzione al gravissimo problema della disoccupazione, su questo ci stiamo lavorando, insomma perlomeno davvero stiamo cercando di sollecitare più che possibile i vari componenti che hanno anche una diretta o indiretta responsabilità. Penso che quello che tutti possiamo fare è di saper condividere qualcosa del nostro, perché tutti possiamo, nella condivisione, stare un po' meglio. Vorrei che questo messaggio arrivasse a quelli che vivono una certa sicurezza nella loro vita. Certo ai poveri, chiaramente alle famiglie povere, che cosa potrei dire? Invece a quegli altri dico cercate di solidarizzare un po' di più e questo sicuramente potrà aiutare anche loro. Ma la soluzione per queste famiglie bisognose non è il pagamento della bolletta o il pacchetto che diamo in questo periodo, anche se questo sicuramente è un refrigerio. Credo che la soluzione sia in una duplice direzione. Da una parte che effettivamente, mi riferisco ai credenti, sappiano veramente condividere il loro affetto. Cosa vuol dire? Perché non si potrebbe invitare una famiglia povera alla propria mensa? Questa è una domanda che a mio parere vorrei lasciare sospesa. E poi nell'altra direzione, quindi una dimostrazione di affetto. Poi nell'altro, certo, nella misura in cui il Signore fa capire che questo è il cammino, quello della solidarietà, avere il coraggio di saper dimezzare le proprie risorse. Io so che si vive, almeno in alcune frange della società, con risorse davvero molto, diciamo, ispessite, come dire, troppo alte. Questo, a mio parere, non è un modo per poter tentare una soluzione definitiva. Cioè, finché, voglio dire, adesso voglio essere più esplicito, finché c'è qualcuno nella storia dell'umanità che riesce a prendere più di 4, 5, 6 mila euro al mese in su, evidentemente è chiaro che, purtroppo, ci saranno sempre persone che, evidentemente, vivranno nella povertà. È così. Questa è una logica delle cose, ma una logica mondana, una logica, a mio parere, che appartiene al daimonon, cioè a quella forza demoniaca che è fondamentalmente legata all'egoismo di noi tutti. Sindaco, quali auguri si sente di formulare per questo Natale 2015 alla cittadinanza? Dando un felicissimo Natale in famiglia, di serenità, e per tutti quanti un buon fine anno, ma soprattutto che l'anno nuovo porti delle novità per il futuro, che finalmente incominciamo a intravedere quella luce che ci consenta di poter sperare in un futuro migliore. Ci lasciamo dietro un 2015 che forse è tra i periodi più bui della storia di Gela, ma Gela, come al solito, è sempre riuscita a trovare il meglio nei suoi figli, proprio nei momenti più bui. Quindi a tutti quanti un buon Natale, un felice anno nuovo, ma soprattutto un radioso 2016. Sindaco, la nascita di Gesù ha una carica evocativa molto forte, rappresenta anche il rinnovamento. Se lei potesse rinnovare radicalmente un settore di questa città, su che cosa opererebbe? Non esiste un settore, non voglio fare lo stesso errore che è stato fatto 50 anni fa, Gela ha tantissime potenzialità, dall'agricoltura al turismo, al mare, dove ha sempre avuto le sue più grandi ricchezze. Quindi non esiste una sola ricetta, ma come i buoni piatti, è formata da tante parti, che messi insieme sicuramente potranno dare quello che servirà alla nostra città. Il Comitato per lo sviluppo dell'area gelese da anni si interessa delle problematiche legate alla sanità del comprensorio gelese. Siete scontenti di questo bilancio 2015? Perché? Ovviamente siamo scontenti. Partiamo da una situazione di svantaggio. Siamo la sesta città per popolazione, la tredicesima per servizi sanitario e spedalieri in Sicilia. Nonostante la posizione di svantaggio, anche rispetto alla zona nord di questa attuale provincia, o libero consorzio, troviamo sempre dei manager che spendono e investono di più nella zona nord, aumentando il gap, e investendo sempre poco nella zona sud. Il tutto per Gela si riconduce a spostamento di reparti. Ogni manager, l'unica novità che ci fa trovare all'ospedale di Gela sono lo spostamento di reparti. Si può andare avanti in queste condizioni, in questo modo per una città di 80.000 abitanti? Sicuramente no. Nel contempo a Caltanissetta si aprono 8 nuove sale operatorie, si individua la biologia molecolare che per legge dovrebbe toccare a Gela perché siamo una zona ad alto rischio industriale e quindi le alte specialità per le patologie oncologiche che dovrebbero essere fatte nel nostro territorio. Sic fa il centro dati per tutta la provincia di Caltanissetta, nuove redi, quant'altro. A Gela si annuncia invece lo spostamento dei reparti. Quali sono le richieste che è continuata ad inoltrare ormai da anni? Prima tra tutte c'è l'Utin. È dal 2008 che chiediamo l'Utin a Gela, dal 2009 individuata ufficialmente e dal 2009 puntualmente ci viene detto che tra sei mesi o tra un anno verrà celebrato il bando di Gela per attuare l'Utin. Questo direttore attuale ha promesso a tutti gli italiani davanti ai microfoni in Rai e in sesta commissione di sanità che entro dicembre 2015, cioè adesso, doveva consegnare i locali pronti per l'Utin. E questo manager ha mancato una sua promessa fatta ai cittadini gelesi e ai siciliani. Non si può andare avanti in questo modo illudendo i gelesi e proiettando gli investimenti per Gela sempre al prossimo anno, ai prossimi sei mesi e rimandandoli di volta in volta perché poi alla fine ci ascoltiamo che quegli investimenti non si faranno e non sono destinati a Gela. Chiederete un incontro? Abbiamo chiesto un incontro dal giugno di quest'anno, ripetutamente, attraverso le raccomandate, attraverso le lettere protocollate, attraverso le telefonate, ma il manager Iacono non è disposto al confronto con il nostro comitato. Vuole fare un appello attraverso le nostre telecamere? L'appello che faccio di anzi alle vostre telecamere è quello di attenzionare questo ospedale da parte di Regione e da parte di Asper per quello che merita. L'unica fortuna che abbiamo adesso in questo territorio è che a breve usciremo da questo libero consorzio di Caltanissetta e poi dovremo dimostrare alla Regione perché brucia tutti questi investimenti nella sanità in un consorzio di appena 169 mila abitanti. E' stata celebrata su iniziativa dell'Aias di Gela la Santa Messa nei locali del Palalivatino ufficiata da Padre Enzo e allietata dal coro della parrocchia San Rocco. Un intenso momento di pace e condivisione a poche ore dal Natale. Il presidente dell'Aias Anna Maria Longo. Noi per il 2015 avremo una bellissima proposta da fare sempre che l'amministrazione ci dia una mano d'aiuto. Abbiamo un progetto molto bello e ambito si tratta del dopo di noi e della piscina ma la cosa più importante è il dopo di noi che praticamente la casa dove i ragazzi che adesso stanno frequentando l'Aias un domani che non avranno più genitori non avranno nessuno saranno lo stesso accuditi dalle stesse persone con cui hanno condiviso quasi tutta la loro vita perché abbiamo assistiti qua che sono venuti all'età di due anni di tre anni l'Aias ha 40 anni un altro anno in maggio farà 40 anni l'Aias e speriamo di festeggiarla e perciò abbiamo ragazzi di 40 anche di 60 anni e adesso penso che sia venuto il momento di poter dare qualcosa di più come terapie come assistenza penso che è uguali ma non penso che ce ne fossero sto peccando di presunzioni ma superiori penso che non ce ne siano perché tutti i nostri terapisti tutti i nostri tutta l'equip non voglio dire le figure per ognuno tutta l'equip è un'equip meravigliosa che è molto dedita molto professionale e ama i ragazzi la cosa che dico sempre io forse sarò di nuovo ripetitiva se non c'è amore non si ottiene niente e penso che all'Aias ci sia tanto di quell'amore che si può pure vedere armati di buona volontà e numerosi pacchi dono i componenti di noi con Salvini hanno dedicato un po' del loro tempo per le fasce meno abbienti di Gela a poche ore dal Natale molte famiglie hanno ricevuto a casa la spesa natalizia un gesto forte e simbolico come spiega il rappresentante gelese del partito fondato da Matteo Salvini noi con questa azione non vogliamo risolvere i problemi di una città che ha lo sbango è un piccolo gesto di aiuto prossimità alle feste e natalizie ovviamente questo è un gesto che noi vorremmo ripetere nei mesi a seguire volendo fare una giornata della solidarietà una volta al mese per queste famiglie comunque che vivono non è stato veramente disastroso e penoso ovviamente non si mangia solo il giorno di Natale sono famiglie che hanno bisogno tutti i giorni di dare qualcosa ai propri figli quindi è un gesto che noi vogliamo ripetere nei giorni e nei mesi a seguire allora speriamo che altre associazioni possano comunque emulare questo nostro gesto anche altri partiti politici movimenti emulare questo nostro gesto anche loro proporsi per la cittadinanza e non solo ai fini politici ma solo al fine di portare solidarietà e conforto a questa gente di portare solidarietà di portare solidarietà e non solo ai fini politici